e ciao a tutti ragazzi quest'oggi come potete vedere ci troviamo in un nuovissimo video vabbè si vedeva che era un video se no era un fermo immagine certo guardare un fermo immagine non è che sia bellissimo quindi direi di passare al video ragazzi sto facendo questo vlog allora in primis per dirvi che oggi sono stato tutto il giorno fuori sono andato a fare delle commissioni dei lavoretti con mio padre quindi sono stato tutta la mattina fuori casa voi tutti sapete almeno credo chi mi segue assolutamente comunque lo sa che io i video appunto li realizzo giornalmente ovvero che io la mattina registro certo se c'è sole ma oramai credo che questa situazione la sapete è iniziato l'inverno quindi anche per questo non riesco ad accendere il pc alle 8 ma magari lo devo accendere alle 11 quindi per quello non riesco più a fare il video delle 13 ma salta alle 14 e 30 certe volte esce addirittura alle 16 per questo discorso ma tranzoli che in estate sarà perfetto perché l'estate il sole spunta alle 3 del mattino che tu ti svegli alle 3 del mattino che c'è sole fuori e dici mi porca troia c'è che è tardi devo andare a scuola quindi diciamo l'estate sarà più agevole registrare e fare il tutto sto facendo questo video alla fine per due motivi il primo alla fine sono entrambe belle notizie vabbè il primo non è che è una bella notizia è una notizia che vi do appunto oggi non uscirà la ROAD perché essendo stato tutto il giorno fuori sono tornato adesso a casa che sono le 3 questo video non so a che ora uscirà ma comunque lo farò uscire non so a che ora in ogni caso era appunto per avvisarvi che oggi non riuscirò a far uscire la ROAD visto che dovete sapere che per la ROAD ultimamente facendo tante costruzioni eccetera 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 tra il provarle guardare video perché considerate che prendo molto spunto addirittura qualcuna non dico che la copio spudoratamente ma se ci vedo certe costruzioni o che mi inviate voi o che vedo le costruzioni carine se vedo che mi piacciono proprio le ripropongo uguali nella serie quindi già solo questo è il guardare video oppure il semplice studiarle e riproporle in creative nel mio mondo cioè mi porta via tantissimo tempo poi il registrare il tutto faccio video ora me lo sapete da 2 ore circa che poi taglio in 15 minuti considerate che ogni episodio della ROAD che vedete almeno ultimamente gli ultimi 20 episodi ci mettono all'incirca 4-5 ore a video quindi 4-5 ore di lavoro è davvero pesante appunto accendendo il pc intorno alle 11-12 fatevi il conto voi cioè vedere che cosa fare nella serie diciamo che il tempo se ne va quindi per quello certe volte non esce precisa alle 2 e mezza il video ma magari esce più tardi detto questo ragazzi un'altra bella notizia che volevo darvi è che finalmente potrete spedirmi tutto quello che volete certo magari evitiamo le bombe a mano magari c'è qualcuno che dice oh poi gli mando una bomba magari quelle dico se le avete ecco tenetevi le 7 perché magari possono essere regali regali che fanno furone no regali esplosivi ecco quelli dateli non lo so a qualcuno che conoscete tipo non lo so tipo alla professoressa che vi ha messo 2 perché non eravate preparati quel secondo me potrebbero accettarlo non lo so magari la loro sarà una reazione come cioè molto felice molto d'impatto no? molto d'impatto sicuramente con un regalo del genere fate il botto le battute intanto mi devo spogliare perché sono appena arrivato a casa mi sono dimenticato di levarmi il gilet fuori sta piovendo c'è un tempo del cazzo quindi in ogni caso ragazzi da adesso in poi sappiate che veramente mi potrete mandare tutto se avete una letterina da scrivermi se avete una fanart quello che vi pare ragazzi se avete un assegno da 10.000 euro intestato a nome mio tutto l'assegno da 10.000 euro e ben accetto vi giuro è ben accetto pure da 20.000 cioè vi giuro che schifo non lo dico proprio davvero oh guarda si è aperto l'antivirus nel computer ciao antivirus il database dei virus di Avast è stato aggiornato quindi ragazzi appunto qualsiasi cosa mi volete mandare davvero ragazzi a me può solo fare tanto piacere e ho intenzione appunto di iniziarci a fare qualche video appunto quando riceverò dei pacchi delle booster non lo so contenenti i vostri regalini quello davvero ragazzi quello che a me una semplice letterina può soltanto fare piacere visto che c'è gente che me l'ha richiesto soprattutto ultimamente l'ha flusso aumentato che gente che mi ha richiesto pepo c'ho un disegnino da mandarti a chi lo devo spedire ecco certo che non siano nemmeno bambole gonfiabili non è che poi arrivo mi apro la busta guarda c'è una bambola no perché quelle perché poi la mia ragazza c'è vede ste cose si fa delle domande e non va bene quindi magari evitiamo quelle cose quindi che mi spaventano ma soprattutto una cosa a cui tengo particolarmente e che ci tengo davvero ricordatevi di scrivere nella lettera o dentro fuori o dove vi pare scrivere il vostro nome perché voglio sapere appunto chi me la scrive perché davvero c'è ci tengo a sapere chi me la scrive non è che apro la busta oh guarda me l'ha scritto calogero così quindi ragazzi ci tengo particolarmente appunto che mi scriviate il vostro nome nella lettera nel pacco qualunque cosa sia dove bisogna spedire il tutto allora questo è quello che dovete scrivere nella busta ovviamente la busta la dovrete intestare a nome mio cioè mica a nome di girolamo cosentino a nome mio scrivete giuseppe di michele a contrada cambuca si tranquilli è normale che non c'è specificata via o corso voi basta che scrivete contrada cambuca basta grissi e tra parentesi ci mettete pa perché grissi appunto è provincia di palermo e il cap 940 easy in ogni caso se avete dei dubbi comunque se voi guardate la descrizione troverete appunto scritto il tutto quanto ovvero cosa dovete scrivere nella busta per arrivarmi sperando che mi arrivi sperando che mi arrivi magari c'è il postino che si ruba le vostre lettere le legge ci le avete scritto caro pepo sono un tuo funzi che ti seguo da quando appunto ho iniziato a seguirti tu lo sai che ti che 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 sei un eeeh ciao ecco magari legge questa busta cioè legge questa lettra e dice è fatto quindi magari non capisce una cosa mi piacerebbe ricevere però sfortunatamente non si può fare cioè ad esempio no se io sono siciliano no però cosa sarebbe bello tipo mandare che ne so a uno che vive tipo in veneto dalla sicilia tipo fai un bel pacco e ci mandi che ne so il cannolo la cassata però a quello che cosa ci arriva cioè a quello non ci arriva il cannolo la cassata ci arriva la frittella cioè ci arriva tipo tutta la roba scafazzata sudata che per la ricotta sudata non è che sia tanto buona perché tu quando la mangi fresca dici minchia che è bianca quando la mangi sudata dici minchia che è gialla e gialla diciamo non è che è un po' più acidula non lo so magari a qualcuno piace la ricotta gialla che poi la ricotta gialla è quella che si forma tra le ditini dei piedi quando non li lavi per due o tre settimane quindi diciamo potete immaginare il sapore bello aghe che c'ha la ricotta gialla quindi quella magari ve la sconsiglio però sarebbe bello che nessun tipo le specialità di ogni posto minchia dovrebbero fare la posta quella tipo la posta refrigerata no che ne so tipo da Napoli ti mandano la pastiera perché io so che a Napoli cioè è famosa la pastiera io non l'ho mai mangiata dovrebbero inventare il pacco refrigerato che tu ci metti la pastiera e vabbè si è capito che io sono uno che mangia cioè si capisce che io sono un buon gustaio si capisce no vabbè che guardandomi comunque si capiva che a me piace mangiare non è che non si capisce certo ogni tanto mi capita la gente mentre sono persona mi fermo e mi dice mia amore mio che 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 stai facendo la dieta ti vedo un po' sciupato cioè tranne la nonna la nonna ti vedrà sempre sciupato eh pure se pesi 297 chili lì ti guarderà amore mio figa gioia mia che favo fatta paizuzza no picchi ti vedo deperito nonna ma peso 277 chili no figa 277 no amore a mettere qualche chilo su cioè devi mettere qualche chilo in più amore mio ti vedo ti vedo sciupato ti vedo sciupato mica nonna vuol dire devi mettere gli occhiali larghi se no non ci entro nell'inquaggiatura dei tuoi occhiali e invece e invece noi ci abbiamo le nonne che ci vedono sciupati che volete farci eh in ogni caso ragazzi ho approfittato di questa giornata che non ho caricato la ruota e mi dispiace tantissimo ma appunto c'è tanto lavoro dietro ma in ogni caso seriamente ragazzi adesso potrete spedirmi tutte le vostre letterine e davvero sarà bello perché credetemi c'ho un cassetto qua nell'armadio vuoto che non sapevo che cazzo metterci no perché alla fine c'è ne ho uno grande ne ho uno grande ci ho messo tutte le mutande tutti i calzini no ma c'è uno che che faccio in un cassetto le mutande in un cassetto calzini che c'ho 27 milioni di paio di mutande no quindi faccio uno lo riempio con tutte le vostre cosine e nell'altro c'ho le mutande magari un giorno sbaglio prende il cassetto ragazzi guardiamo tutte le vostre fanartime che belle mutande che mi avete mandato che spettacolare no vabbè in ogni caso ragazzi io spero che il video di oggi vi sia piaciuto se per caso non avete capito la via o dove spedirmi quello che volete qui sotto in descrizione troverete il tutto detto questo che non si è capito niente facciamolo più piano per chi magari non se il video ti è piaciuto metti mi piace se il video non ti è piaciuto metti lo stesso mi piace perché comunque ci devi apprezzare il fatto che io c'ho le mutande quindi solo per questo il mi piace ci va cioè non lo metti il mi piace e lo devi mettere perché se no non le metto più le mutande e non conviene e non conviene perché io senza mutande sono bruttissimo quindi ve lo sconsiglio poi se il video ti è piaciuto talmente tanto che lo vuoi condividere fare sapere a tutto il mondo che io adesso cioè mi potete inviare quello che volete cioè mica lo puoi condividere su fastbook su facebook su prozap cioè lo puoi condividere dove ti pare su tumblr cioè dovunque lo puoi condividere questo video poi se il video addirittura se ti è piaciuto talmente tanto che lo condividi e metti pure mi piace cioè addirittura sai quella è l'altra cosa che puoi fare perfetto neanche io la so quindi visto siamo in due cioè in più poi sai quella cosa incredibile se ti piacciono i video ovvero le minchiade che faccio io cioè puoi anche iscriverti altro è incredibile cioè io ti giuro quando ho scoperto questa cosa cioè sono rimasto tipo scioccato cioè minchia mi posso iscrivermi che posso iscrivermi a un canale che ingedì minchia la tecnologia che invece e invece ragazzi minchia vi potete pure iscrivere al canale e potete anche guardare gli altri no ragazzi ho potuto tutta questa tecnologia tutta insieme non me l'aspettavo ti giuro quando l'ho scoperto sono rimasto sconvolto ho detto no ma che minchia adesso mi devo minchia e sono maestro che tutte le cose le devo imparare tutte insieme quindi questo video guardatevela giate perché se no non l'ho capito era capito ragazzi detto questo ragazzi se vi è piaciuto se è piaciuto pollicione in su qui sotto il video commentate ah questa è un'altra cosa tecnologica incredibile potete anche commentare cioè no vi giuro cioè vi giuro questa parte però la saltiamo perché se no è troppo mainstream cioè c'è già il commento qua devi essere over 9000 quindi qui andiamo avanti condividete noi ci troviamo ad un prossimo video si lo so ragazzi sembra incredibile però farò altri video lo so c'è gente che dice minchia davvero vi giuro davvero minchia ogni giorno se riesco la luce permettendo ne dovrebbe uscire uno se la luce proprio mi abbraccia due due ma per il momento uno al giorno è sicuro a orario alternato voi considerate perché sarebbe bello far uscire ogni giorno un video alle 14 e mezza ma la luce dipende che luce c'è perché certe volte c'è un tempo di merda e arriva il sole a mezzogiorno quindi il pc lo posso accendere a mezzogiorno e comincia a lavorare da mezzogiorno ci sono giorni che magari il sole arriva alle 8 riesco a farvi avere il video alle 2 e mezza ma ahimè dipende dalla luce quello quindi noi ci vedremo ad un prossimo video vi voglio bene e ciao ciao e se ovviamente tutto quello che riceverò verrà aperto in video